La crisi attanaglia l'industria teramana, lo confermano i dati dell'Inps che descrivono una situazione piuttosto difficile per le imprese. E' stato infatti sfondato il tetto del milione e mezzo di ore di cassa integrazione. Vale a dire che nei primi quattro mesi dell'anno in corso c'è stato un aumento del 1300% rispetto allo stesso periodo del 2008 e per il ricorso gli ammortizzatori sociali Teramo e Seconda in Regione dopo Chieti. I settori maggiormente in difficoltà sono meccanico, tessile, legno, chimico e abbigliamento. Alcuni di loro hanno fatto ricorso alla CIG solo quest'anno. Secondo il presidente dell'Inps c'è un modo per aiutare le imprese a superare la crisi. Si possono fare, dice infatti, 52 settimane CIG in due anni. Bisogna portarle a 104. Alcune aziende in provincia stanno arrivando al tetto. Dopo dovranno per forza passare alla cassa integrazione straordinaria o al licenziamento. Sono tutti passi verso la chiusura fino al distacco del rapporto di lavoro.